bentornato gutler bentornata oggi andiamo a riprendere un qualcosa già trattato in precedenza parlando di cortana ma in realtà andiamo a descrivere le impostazioni quindi non il funzionamento dell'assistente vocale già avevamo dato una descrizione appunto sulle funzionalità di cortana nella lezione 179 il suo video ma dopo gli aggiornamenti importanti la microsoft ce l'ha presentata nella sezione impostazioni con un pulsante dedicato andiamo a vedere che cos'è questo pulsante in realtà va a gestire le impostazioni dell'assistente vocale digitale di windows 10 lo scopo di cortana è aiutarti ricordiamo nell'uso del pc o dei dispositivi per le attività quotidiane per accedere naturalmente vai direttamente dalle impostazioni nella sezione dedicata troverai il pulsantone omonimo se non è presente vuol dire che deve aggiornare il sistema portativo almeno alla versione 17 09 ecco qua il pulsante mostrato nella sezione impostazioni ricordo che in questo caso non interagirai direttamente con l'assistente ma andrà ad impostare settare alcuni suoi parametri ricordo che per interagire immediatamente con l'assistente può individuarlo nella barra delle applicazioni se la sua conia non è nascosta troverai appunto cortana pronta per le tue ricerche o azioni entrando invece nella sottosezione dedicata troverai questi pulsanti parla con cortana autorizzazione e cronologia notifiche e altri dettagli dalla prima sottosezione poi testare le funzionalità del microfono che interagirà con cortana cliccando su controlla il microfono appunto se non funziona inizierà una procedura guidata che ti permetterà di settare lo stesso ed eventualmente risolvere problemi dedicati al microfono windows ti guiderà in questo con il cursore e cortana abilitato l'assistente risponderà se pronuncerai appunto la frase e cortana ciò è utile se non ti trovi a pc e vuoi comandarlo a distanza l'alternativa se sei al computer invece attivare il cursore di scelta rapida che ti consente di interagire con l'assistente se premi la coppia dei tasti windows pc cortana può essere anche attivo dalla schermata di blocco del sistema operativo sempre che tu abbia attivato il cursore relativo che è questo evidenziato un segno di spunta può consentire anche a cortana di accedere ad alcuni programmi installati come al calendario le mail messaggi eccetera per poter pianificare leggere e inviare i dati sempre a distanza la sottosezione lingua di cortana ti evidenzia la lingua che utilizzerà l'assistente ovviamente nel nostro caso italiana la sottosezione autorizzazione e cronologia è importante per le autorizzazioni che concederà l'assistente in termini di operazioni che può eseguire o informazioni a cui accedere quindi dargli una letta prima di selezionare eventualmente i cursori questi consori ti consentiranno appunto di abilitare o meno l'accesso ad esempio a posizione contatti mail comunicazioni e cronologie varie sempre più penetranti puoi rendere sicure le tue ricerche filtrando con tre opzioni le stesse completa che escluderà tutte le categorie e informazioni contenuti che sono riservati agli adulti quindi molto sicura moderata escludendo solo foto e video ma permettendo invece la visualizzazione di informazioni di testo particolarmente riservate quindi ad un pubblico adulto oppure senza filtro per includere tutti i contenuti anche quelli dedicati agli adulti potrà includere che le tue ricerche avvengano anche tramite contenuti presenti negli art rischi virtuale a cui sia connesso one drive google drive dropbox e così via abilitando il cursore cronologia migliorerà le tue ricerche nel tuo dispositivo il quale attingerà a tutte le applicazioni dispositivi che utilizzi normalmente integrandoli tra di loro il pulsante subito sotto cancella la cronologia nel tuo dispositivo in uso quindi solo nel dispositivo che sta utilizzando windows 10 la sottosezione notifiche può abilitare lo scambio di notifiche tra i vari dispositivi che utilizzi esempio una notifica chiamata messaggi o notifica di applicazioni come telegram che parte dal tuo smartphone può essere visualizzata sul tuo pc mentre stai utilizzando quest'ultimo senza che andrai a leggerlo sullo smartphone un eccellente metodo quindi di distrazione mentre svolgi altri compiti l'ultima sottosezione ti consente di informarti sulle caratteristiche di cortana e sulla gestione della privacy rimandandoti alla consultazione del sito della microsoft altra possibilità entrare nei settaggi della privacy che invece abbiamo visto nella lezione 188 e relativo video tutorial eccoci di nuovo in zona pratica andiamo a vedere dove andare a settare le impostazioni di cortana qui bel pulsantone e avrai mostrate le opzioni con questo pulsante potrai controllare la funzionalità del microfono quindi potrai chiacchierare con cortana vedendo se funziona il microfono altrimenti potrai entrare nelle impostazioni per migliorare il tutto attivando questo cursore potrai permettere a cortana di risponderti quindi entrare in azione quando la chiamerai con ei cortana ovviamente ha bisogno di autorizzazioni per poter accedere a queste informazioni quindi dovrai cliccare su certo in questo caso a questo punto potrai abilitare il cursore e potrai intervenire con le funzionalità di e cortana ti ricordo che è necessario accedere a cortana accedendo al sistema operativo tramite l'account microsoft in questo caso potrai chiamarla ed entrare in azione questo segno di spunta impedisce al dispositivo quindi di andare in sospensione mentre collegato anche se non stai utilizzando il computer qui un segno di spunta che ti permette appunto di attivare cortana semplicemente chiamandola e anche un settaggio della voce sulla pronuncia di ei cortana alternativa alla chiamata di ei cortana è la coppia di tasti windows c attivandolo ti permetterà di abilitare cortana senza chiamarla ecco il risultato dopo la pressione se attivo puoi anche utilizzare cortana durante la schermata di blocco quindi potrebbe essere utile e qui andrai nella sezione delle impostazioni della schermata di blocco che già abbiamo visto in un'altra lezione questo segno di spunta permette appunto di far accedere a cortana ad alcuni programmi gestiti all'interno di microsoft e qui ti evidenzia la lingua attualmente in uso di cortana seconda sotto sezione autorizzazione e cronologia qui puoi gestire le operazioni che può seguire cortana e anche le informazioni a cui può accedere tramite questo pulsante potrai entrare nella ulteriore sotto sezione che ti permette di evidenziare a quali informazioni può accedere cortana la posizione se lo attivi cronologia contatti e mail calendario e comunicazioni oppure cronologia nelle esplorazioni leggi queste note prima di attivare eventualmente l'impiego di cortana che attinga a queste informazioni qui il tipo di ricerca dedicata a informazioni e contenuti multimediali per adulti hai una esclusione completa di foto video e risultati testo per quel che riguarda informazioni persone adulti con il segno di spunta su moderata potrai escludere video immagini ma otterrai comunque informazioni scritte oppure completamente senza filtro in questo caso includerai tutti i contenuti anche per gli adulti sia testo sia immagini sia video quindi a secondo dell'utilizzo del tuo computer se dedicato ai bambini potrai mettere anche questo segno di spunta o altrimenti moderata decidi tu in base all'utilizzo potrai attivare o meno che le ricerche che eseguirai potranno avvenire all'interno anche dei tuoi archivi virtuali sotto un altro segno che permette di migliorare le ricerche se è attivato per poter andare individuare la cronologia dell'utilizzo tra tutti i dispositivi a cui accederai la sottosezione notifiche ti permette di abilitare o meno le notifiche da dispositivi mobili fino al computer direttamente senza abbandonare la postazione pc in questo caso dovrai accedere all'accanto macosoft e fornire una connessione ad internet tramite questo pulsante potrai ottenere l'applicazione di cortana per dispositivi mobili quindi smartphone ultimo pulsante altri dispositivi a dei pulsanti che ti permettono di andare ad individuare sul sito della macosoft tutte le informazioni che la stessa prende in considerazione per la tua privacy tramite i tuoi dispositivi il primo e l'ultimo pulsante ti rimandano al sito della macosoft questo pulsante opzioni di privacy di windows ti rimanda a una sezione che già abbiamo consultato nella quale potrai in maniera granulare giustire le impostazioni del sistema operativo in relazione a hardware e software di windows 10 ok nella prossima lezione ancora informazioni su windows 10 ora con sempre un forte saluto ciao a presto da caldo e dalla prossima ciao a presto ciao a presto